Allora, l'altro tempo a disposizione è terminato completamente, è terminata anche a Bioresta Facebook, questo è un messaggio che abbiamo registrato qualche secondo, subito dopo il down. Mister, Enrica ovviamente ha il cuore ammalazzo da una vita, io no, ma mi hai convinto. Mi hai convinto assolutamente, assolutamente, e grazie mille per quello che mi faccio per la vita. Io dobbiamo ringraziare questa città e gli abitanti di questa città, questa è la verità, dopo ho cercato di fare il mio massimo, è andata bene e sono felice di aver restituito quel affetto che mi ha ammurato da l'inizio. Allora, noi ci vediamo giovedì, con l'ultima mese del palo, nel mese se vedremo il pomeriggio, se ne va a fare tipo il cavallino d'oro, e tipo poi, anche più avanti nei giorni, è una grande scelta. Sì, è stato tale? Grazie, non lo fare, non lo aspettiamo tutti. Non lo fare, non lo aspettiamo tutti. Perché su un cavallo ci dobbiamo seguire. Bene, grazie a me per fare. A tutti prossimo, ciao a tutti.